Non sapete mai cosa fare di antipasto d'estate? Anche io! Ma questi rotolini di zucchine sono troppo buoni e si fanno in 10 minuti e con pochi ingredienti. Le zucchine le ho tagliate così sottili con il pela patate. Le ho grigliate un paio di minuti e poi ho preparato la crema di farcitura. Per sporcare meno ho deciso di usare il sac a poche ma potete anche spalmarli direttamente col coltellino. Io a sto giro ho deciso di optare per mortadella e pistacchi perché secondo me sono un connubio da urlo ma se volete potete anche metterci il prosciutto cotto. Che si sa prosciutto e formaggio piace sempre anche quello. Insomma sono buonissimi, sono facilissimi, sono super velocissimi, perfetti per l'estate e anche bellissimi. E anche per oggi come dico sempre allacciate il grembiule e provatelo anche voi.